Iscriviti alla seconda edizione delle Olimpiadi Italiane della Saldatura. La manifestazione è aperta a tutti, con eliminatori nei nostri centri in tutta Italia. La finalissima sarà a Genova, nei nostri laboratori nel mese di marzo 2013, la premiazione durante le giornate nazionali di saldatura a maggio, davanti ai 1300 partecipanti. Per tutti, attestato di partecipazione e per i primi tre di ogni categoria, trofeo olimpico e premi in denaro. Chiedi informazioni e la scheda di partecipazione all'indirizzo che troverete in sovraimpressione e buone Olimpiadi. Buongiorno e ben ritrovati al TG Approfondimenti. Mancano pochi mesi a Bauma 2013 di Monaco, che si terrà dal 5 al 21 aprile e che sarà certamente il più importante appuntamento mondiale per il settore delle costruzioni. Bauma 2013 è la trentesima fiera internazionale macchine per l'edilizia, materiali da costruzione, macchine per miniera, veicoli ed attrezzature da costruzione. Per ulteriori dettagli potete consultare il sito che trovate in sovraimpressione. TT Expo, unica mostra convegno italiana interamente dedicata al settore dei trattamenti termici, dei metalli e alle tecnologie collegate. Nata da pochi anni, la manifestazione ha già raggiunto livelli internazionali, grazie alla partecipazione di marchi provenienti da tutta Europa. e si terrà a Piacenza dal 15 al 17 novembre 2012. L'Istituto Italiano della Saldatura sarà presente con un proprio spazio espositivo. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ttexpo.it. Ricordo che il 27 novembre 2012, presso il Centro Congressi FAST a Milano, si terrà il convegno organizzato da I.S. dal titolo Robotica ed Automazione dei Processi in Saldatura. Quali alternative ai processi convenzionali? Per ricevere ulteriori dettagli e iscriversi potete contattare la nostra collega Ivana Limardo all'indirizzo di posta elettronica che trovate in sovrimpressione. Trasmettiamo infine una notizia che riguarda gli abbonati della rivista. C'è un'offerta speciale in corso. A chi rinnova oppure chi si abbona alla rivista italiana della Saldatura per l'anno 2013 riceverà in omaggio i numeri restanti del 2012. Chi desiderasse inoltre ricevere via mail i TG settimanali e la rassegna stampa Saldatura Flash con numerose notizie dal mondo delle costruzioni saldate puoi scrivere a francesca.repeto at iis.it Non ci sono altre notizie da trasmettere. Auguriamo a tutti una buona giornata e vi diamo appuntamento alla settimana prossima.